Cristo La libertà di muovermi ed andare nella mia Italia evangelizzare Molte volte manca il fervore, la prontezza nell'evangelizzare E guai a me se non evangelizzo, e guai a te se non evangelizzi Perché necessità mi è imposta, dice San Paolo nei Gorizzi E guai a me se non evangelizzo, e guai a te se non evangelizzi La libertà che abbiamo nel parlare, e annunciare in Italia il Signore In alcuni paesi del mondo non si ha libertà di parlare Del Vangelo di Cristo e del suo amore, e tutto questo mi fa pensare Ci raccontano di grandi sofferenze, di credenti che parlano di Cristo In prigione non rinnegano il Signore, maltrattati, micchiati, messi a morte E guai a me se non evangelizzo, e guai a te se non evangelizzi Perché necessità mi è imposta, dice San Paolo nei Gorizzi E guai a me se non evangelizzo, e guai a te se non evangelizzi La libertà che abbiamo nel parlare, e annunciare in Italia il Signore E guai a me se non evangelizzo, e guai a te se non evangelizzi E guai a me se non evangelizzi, perché necessità mi è imposta, dice San Paolo nei Gorizzi E guai a me, Signore Evangelizzo E guai a te, Signore Evangelizzi La libertà lo sappiamo nel parlare E annunziare in Italia, Signore E guai a me, Signore Evangelizzo E guai a te, Signore Evangelizzi Perché ne c'è vita che posta Dice San Paolo nei polizi E guai a me, Signore Evangelizzo E guai a me, Signore Evangelizzo La libertà lo sappiamo nel parlare E annunziare in Italia, Signore E annunziare in Italia, Signore Evangelizzo